Pensando ai bonbon mi sono venute in mente le gomme da masticare. Le prime palline di gomme da masticare sono state realizzate da Thomas Adams nel 1871 e vendute in una drogheria di Hoboken nel New Jersey. Anche se a dirla tutta i primi a masticare gomme sono stati Maya nello Yucatan. I Maya estraevano da un albero che chiamavano cicle una sostanza un lattice che appunto si trasformava in una gomma e veniva masticata per diversi motivi. Poteva essere un modo per allenare e allentare la tensione delle mandibole e delle mascelle, poteva essere un modo per scacciare la fame o semplicemente un passatempo. Mentre in altre zone si masticavano foglie di coca e di tabacco, i Maya dello Yucatan riuscivano ad avere un, chiamiamolo così, passatempo, un alimento alternativo senza avere assuefazione e senza provocare particolari danni alla loro salute. Ci fu un generale messicano che decise di importare questa gomma negli Stati Uniti. Arrivato nel porto di Staten Island, venne appunto a contatto con questo droghiere e iniziò a pensare che attraverso il lattice del cicle si potesse realizzare ad un costo minore la Roma vulcanizzata. Ovviamente questa cosa non era possibile farla e Santa Ana, questo generale messicano ritornò in Messico dove morì pochi anni dopo, mentre il famoso Thomas cercò in qualche modo di mettere in piedi quello che era il progetto che gli era stato lasciato dal generale. Ma invece di una gomma vulcanizzata e quindi di un prodotto a basso costo per produrre oggetti, si ritrovò in mano un prodotto alimentare e iniziò proprio a produrre, aggiungendo ovviamente aromi, delle gomme da masticare che appunto prendono il nome di gomma americana. Ma la domanda è, per quale motivo la gomma americana è diventata famosa ed è stata importata in tutto il mondo? Siamo in piena seconda guerra mondiale e gli americani sono arrivati sul suolo europeo e nel caso specifico in Italia portando con sé una cosa molto importante, una razione e cose da distribuire alla gente che incontravano per strada. La gomma americana, il chewing gum, diventa quindi al sud una gingomma, come ancora viene chiamata oggi, mentre al nord, soprattutto in Piemonte, diventa il chicless, proprio perché ritornando alla pianta dalla quale viene estratto il lattice, la prima marca delle gomme americane era proprio chiamata cicle. Quindi ci ritroviamo con due parole che vengono utilizzate ancora oggi che ci hanno lasciato appunto gli alleati sul nostro territorio. Volemo parlare proprio di questo oggi, del fatto che la seconda guerra mondiale non ci ha lasciato solo i grandi e bellissimi, seppur tristissimi monumenti caduti in tutte le città e i paesi più piccoli, non ci ha lasciato soltanto pagine di storia e commenti più o meno positivi o negativi. La liberazione degli americani americani durante la seconda guerra mondiale ci ha lasciato una quantità considerevole di modi di dire, di usanze, di terminologie che sono passati ad essere dei veri e propri prestiti letterari. Ed oggi vogliamo parlare di alcuni di questi. Tra l'altro, se ne conoscete qualcuno in più, segnalatecelo perché ci farebbe molto piacere approfondire l'argomento. I soldati americani, della loro razione abbondante, avevano anche degli alimenti che sono rimasti in quelle che sono ricette importantissime per noi italiani. Basta nominare il bacon e pensare a come noi lo abbiamo sostituito con il guanciale ed è entrato a far parte di una delle ricette più famose italiane, appunto la carbonara. Di questo però non ve ne parlo, ma vi rimando alla lettura di un articolo molto interessante che trovate alla pagina onigrafomagazine.com dove appunto si parla della storia di una carbonara. Ma torniamo alle parole che ci hanno prestato gli americani. Gli americani, oltre a portare cose da mangiare, avevano con sé anche una cosa che li doveva proteggere, ossia dei preservativi. E il primo preservativo che girava in Italia, provenente appunto dalle tasche dei soldati americani, è passato alla storia con il nome di Goldone, come ancora in molti posti viene chiamato il preservativo. Il Goldone era il Gold One, appunto di marca Gold, era confezionato in piccole scatole di metallo rotonde, dorate, e ricordavano appunto una sorta di moneta. C'è però una sorta di ambiguazione per quello che riguarda il nome e l'origine vera di Goldone, perché nel 1922 in Italia, e precisamente a Casalecchio di Reno, venne fondata la grande azienda Atu. Atu sta per abemus tutorem. Ora non sto a fare latinismi e penso che sia ben chiaro il significato. La Atu produceva prodotti differenti in lattice, dai preservativi alle tettarelle per i biberon ai guanti. La cosa però singolare è che il fondatore di questa azienda si chiamava a sé proprio Goldone di cognome. Quindi non sappiamo di preciso la parola da dove arrivi, magari da parti diverse appreso informazioni differenti. Un'altra parola interessante, magari poco conosciuta, appartiene in modo preciso ad una zona della Toscana, a Livorno, ed è la parola A Ronde Ma. Non abbiamo una licenza poetica di volgare italiano alla quale collegarla e gli studiosi della lingua sono propensi a farla derivare dal francese, A Ronde Men, che appunto significa a mano aperta. C'è però una doppia derivazione da quella che è appunto l'occupazione alleata in Italia. Nel primo caso, A Ronde Ma potrebbe ricordare i soldati che chiamavano i bambini per dare loro cioccolato, caramelle, biscotti, quello che avevano in quel momento, e chiamandoli dicevano Round Men, venite intorno, andate intorno a quell'uomo. Ed è rimasto A Ronde Ma. Ma c'è anche un'altra storia molto simpatica, che è quella che vede Livorno come un posto dove c'erano dei grandi magazzini di stoccaggio appunto di merce degli alleati americani. Siamo nel primissimo dopoguerra, la fame e la miseria la fa purtroppo da padrone e nei momenti in cui si riusciva ad entrare in questi magazzini per prendere tra virgolette in prestito, cibo o altre cose. Se venivano scoperti i ladri, i soldati cominciavano a gridare Around Men, nel senso di circondatelo. A quel punto uscivano fuori tanti soldati e ovviamente la festa del prestito finiva lì. Quindi anche in questo caso c'è un po' di dubbio, ma sicuramente da qualche parte arriva questo A Ronde Ma. L'ultima parola di cui voglio parlare è una parola che conosciamo tutti, soprattutto grazie a un grandissimo capolavoro del 1946 di Vittorio De Sica. È un grandissimo film neorealista dal titolo Choucha. Choucha è del film la storia di un ragazzino che fa il lustra scarpe. Ma chi erano questi Choucha? Siamo ancora nel periodo di occupazione degli alleati e di liberazione dell'Italia e i bambini, i ragazzini, si fanno avanti con i soldati per pulire loro le scarpe. Choucha viene da Chouchain, lustra scarpe. E questi ragazzini appunto avevano questo impiego per poter avere qualche spicciolo in tasca o qualcosa in più da mangiare. Successivamente con la conclusione della guerra la figura dello Choucha comunque rimane per ancora diverso tempo proprio come supporto a quelli che sono i soldati, ma non tanto per la loro necessità perché erano dei tramiti per dei traffici più o meno leciti. Quindi anche qui un prestito lessicale che rimane nella nostra lingua. Sicuramente le parole di zona in zona sono moltissime quelle che ci sono rimaste. Il nostro invito è quello di collaborare a questa ricerca e magari anche a indicarci qualche parola strana di cui volete sapere qualcosa di più. Noi abbiamo voluto dedicare questo piccolo escursus a una giornata particolare e a un momento storico che è bene ricordare anche se ogni anno sembra sempre più lontano nel tempo. E poi alla fine le parole strane sono un po' come i bombon, una tirano l'altra. Quindi alla prossima parola strana. Arrivederci.